Ti senti un innovatore? Viene a scoprire NextEnergy, l'iniziativa di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory che valorizza i giovani talenti e sviluppa l'innovazione al servizio della transizione energetica. Per saperne di più, seguici in live streaming su nextenergy.cariplofactory.it. Ti aspettiamo giovedì 19 settembre alle 14.30. Stiamo tornando, lo abbiamo detto, nelle ultime settimane. Finalmente è arrivato il grande giorno, 19 settembre 2019, riparte NextEnergy. Quarta edizione di una delle più importanti iniziative di innovazione in Italia sul mondo dell'energy. Veniamo da tre anni di grandi numeri, tantissimi talenti che hanno affidato a NextEnergy le loro speranze e il loro futuro. Quasi 400 le candidature dei neolaureati in questi anni, più di 100 i progetti imprenditoriali che hanno risposto alla Call for Ideas e più di 130 le start-up più mature che hanno risposto alla Call for Grow. Tantissime le novità della quarta edizione di NextEnergy, a partire dal claim, dal sottotitolo Digital to Transition. Quindi abbiamo abbinato il digitale a una transizione verso nuovi paradigmi energetici più sostenibili e più efficienti. Quindi benvenuti al live streaming per la presentazione di NextEnergy. Ovviamente vi chiediamo di partecipare perché questa è una diretta interattiva, quindi usate l'hashtag NextEnergy per aiutarci a veicolare l'iniziativa e soprattutto per rivolgere le domande agli ospiti che vi racconteranno tutte le novità. Siamo in diretta sulla pagina Facebook di NextEnergy, ma siamo anche sulla pagina Instagram di Terna e poi anche su Twitter e LinkedIn. Quindi veramente una presenza su tutti i principali social media. Sono al tavolo per questo primo blocco Carlo Mango, direttore dell'area ricerca scientifica e tecnologica di Fondazione Cariplo e consigliere delegato di Cariplo Factory e Chantal Amand, responsabile piani, progetti e reporting di sostenibilità di Terna. Allora Carlo, cominciamo da te così, un po' come padrone di casa. Probabilmente c'era anche Chantal il giorno in cui cominciò questa grande avventura di NextEnergy, per cui ti chiedo di raccontarci un po' come è nato il progetto NextEnergy e come si è evoluto in questi anni. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Certamente il progetto NextEnergy nasce per la forte volontà di Cariplo Factory e Terna, direi anche Fondazione Cariplo, che insieme hanno deciso di fare un percorso innanzitutto di co-design di un'iniziativa. Oggi spesso si parla di modalità di rapporto e di relazione tra istituzioni anche di tipo diverso. NextEnergy è un bel esempio, è un bel esempio di un progetto fortemente evoluto. Chiaro, ogni attore ha portato e ha dato il suo apporto per questa iniziativa. In particolare Cariplo Factory, un po' come punto di riferimento nell'ambito dell'open innovation, ha cercato di agire come puntatore verso il sistema degli innovatori, verso gli incubatori e cercando anche di attivare tutto il mondo delle start-up che noi conosciamo bene in quanto evidentemente possiamo fare open innovation nel momento in cui coinvolgiamo le menti più brillanti, sia a livello di talenti, di inventori, di start-up, di ricercatori, perché no? Quindi insomma, volendo pensare oggi in fondo è la quarta edizione, sono già passati 4 anni, a me sembra, è un progetto che forse è uno tra i più freschi ai quali ho partecipato nel corso appunto di tanti anni di attività, certamente volendo dire resta questa community che potremmo chiamare un po' la community di NextEnergy che è popolata da giovani laureati e evidentemente da innovatori che a vario titolo collaborano a questa iniziativa, votata appunto alla generazione di opportunità e di neoimprenditorialità. Carlo, tu facevi riferimento alle opportunità. Cariplo Factory nasceva con questa mission di creare 10.000 job opportunities, un traguardo che è stato raggiunto con la certificazione di quasi 12.000 job opportunities. Allora NextEnergy peraltro ha contribuito in modo importante al raggiungimento di questo obiettivo, perché queste job opportunities rappresentano una milestone così importante per Cariplo Factory? Innanzitutto perché tutto si lega un po' all'obiettivo per il quale abbiamo fatto Cariplo Factory. Cariplo Factory è un hub di open innovation, questo è evidente, ma soprattutto cerca di offrire opportunità a vario titolo, sia ai corporate che agli start-upper, ma soprattutto a tutti i giovani o meno giovani che oggi si vogliono avvicinare a un mercato del lavoro che attraverso l'utilizzo delle tecnologie può anche offrire dei lavori più qualificati e che realizzano meglio le persone. In questo senso abbiamo voluto dichiarare una sfida insieme a tutte le altre che avevamo tre anni fa quando siamo partiti, che era proprio quella delle opportunità di lavoro, forse qualificarle anche opportunità di lavoro dignitose che realizzano le persone. Bene, ne avevamo dichiarate 10.000, suonava un po' anche una forzatura devo dire, però era un modo per richiamarci al fatto che siamo organizzazioni che devono essere tese a far succedere delle cose e realizzare degli obiettivi. Questo abbiamo fatto con Terna che ha dato un apporto, devo dire, vitale e molto importante al raggiungimento di questo, perché tutto quello che è legato all'energia l'abbiamo realizzato assieme e devo dire che i numeri sono anche importanti, perché parliamo comunque di opportunità di lavoro molto qualificato, perché l'elasticella qua è alta, parliamo di figure neolaureate, figure anche di uno spessore tecnico importante, però pare di ricordare che coinvolte a vario titolo sono circa 500, forse di più, le figure che sono state coinvolte in questo percorso di job opportunità. Quindi da questo punto di vista ancora una volta questi progetti, il progetto Next Energy dal mio punto di vista vale ancora di più nel momento in cui tiene agganciate queste persone in una comunità che è anche quella di coloro che hanno trovato un lavoro qualificato in linea con le proprie aspettative, fatemelo dire, con gli investimenti che spesso anche noi genitori facciamo sui piani e percorsi di studio dei nostri ragazzi che quindi riescono a fare un lavoro che gli dà soddisfazione in quanto apportano un valore aggiunto importante. Ecco Carlo tu hai citato la crescita, hai citato i talenti, hai citato un'iniziativa che oggi è sparsa un po' su tutto il territorio nazionale, quindi voglio ricordare che Next Energy oggi è un'iniziativa promossa da Terna, Fondazione Cariplo, Cariplo Factory ma supportata in modo importante da una rete di incubatori certificati che ci hanno aiutato nel corso della scorsa edizione a far crescere molte idee imprenditoriali e peraltro oggi questi incubatori ci stanno aiutando anche a diffondere questo live streaming, per cui un saluto anche a tutti gli incubatori. Chantal, c'eri anche tu quando cominciò questa grande avventura, Carlo ci ha fatto un po' una panoramica di che cosa è successo e allora invece a te chiediamo cosa succederà, quali sono le novità di questa quarta edizione? Ti ringrazio per la domanda, buongiorno a tutti, questa è una quarta edizione che va da un lato in continuità con quello che è stato fatto perché i risultati sono stati molto positivi, confermo quanto ha detto il dottor Mango. La novità più rilevante, poi i dettagli li lascio ai colleghi che mi seguiranno, riguardano proprio il tema di riferimento, la cornice di riferimento che quest'anno è un ruolo guida nella transizione energetica. È un tema che è sottolineato anche dal nuovo claim che hai ricordato Digital to Transition, questo significa che i Next Energy è un programma che è sempre più interconnesso con gli obiettivi strategici del nostro gruppo. Noi stiamo vivendo una fase molto sfidante per quanto riguarda tutto il mondo dell'energia che è la transizione verso un modello energetico completamente decarbonizzato, questo significa integrare sempre più l'energia da fonte rinnovabile nel sistema elettrico. L'obiettivo naturalmente è un modello di economia carbon free. Quindi Next Energy con questo tema che introduce quest'anno vuole dare un suo contributo a questo obiettivo strategico del nostro gruppo. Beh, devo dire che come Cariplo Factory non ci può che fare piacere il fatto che un programma come Next Energy sia sempre più vicino alle corde di innovazione di un'azienda come Terna. Ecco, Chantal, ci hai raccontato questo Digital to Transition, questo ruolo guida nella transizione energetica. Sicuramente ci saranno molti ingegneri collegati al quale il concetto sarà molto chiaro. Per tutti gli altri magari ci spieghi un po' meglio questo concetto? Sì, anche questa è una sfida dirlo in due parole con chiarezza, ma ci provo. Certo, questa call, il gruppo Terna sicuramente cerca da sempre, ha bisogno da sempre di ingegneri, ma questa fase che stiamo vivendo richiede nuove competenze, nuovi punti di vista, per cui dall'anno scorso noi abbiamo allargato la call for talent alla ricerca di matematici, fisici, statistici, economisti. Questo perché sono competenze che sono necessarie per favorire questa fase in cui ci troviamo. Noi, Terna si trova esattamente al centro del sistema elettrico, dove all'inizio abbiamo nella prima parte coloro che generano, producono energia elettrica, noi siamo al centro e la trasmettiamo e rendiamo possibile poi la distribuzione. In questa fase la sfida appunto è connettere queste fonti rinnovabili che per definizione sono molto più complesse perché non sono prevedibili, parliamo di sole, di acqua, di vento, sono molto più diffuse, molto più nebulizzate quasi sul territorio. Quindi la nostra rete ha bisogno di adeguarsi a questa nuova situazione, diventare più smart, più capillare, più resiliente. Quindi questo significa che stiamo passando da un modello prettamente deterministico a un modello probabilistico. Ecco perché cerchiamo da un punto di vista dei singoli talenti, appunto statistici, fisici, matematici, sul fronte delle start-up cerchiamo soluzioni di, cerchiamo analisti, persone, tecnologia in grado di gestire big data, intelligenza artificiale. Quindi lo vorrei dire con molta chiarezza, questa non è una call che cerca solo ingegneri, ma il campo è molto più ampio. Il consiglio che posso dare lo descriviamo con una certa dovizia, proprio nel bando di Next Energy, cerchiamo di chiarire esattamente quali sono i nostri bisogni e lo abbiamo riassunto appunto in questa cornice che è un ruolo guida nella transizione energetica. E direi che questa è in coerenza con la fase che viviamo ed è forse l'indicatore più significativo di come è cresciuto nel tempo, in soli quattro anni, questo progetto, la novità più importante. Beh, allora grazie per la sintesi e complimenti, perché in effetti non era facile. Allora, noi concludiamo il primo blocco di presentazione di Next Energy, ma ovviamente torniamo tra pochissimo per parlare di talenti e quindi di neolaureati e quindi di Call for Talent. Lo faremo con Simona Sapio, responsabile della selezione di Terna. Non andate via, torniamo immediatamente. Ti senti un innovatore? Vieni a scoprire Next Energy, l'iniziativa di Terna, Fondazione Cariplo e Cariplo Factory che valorizza i giovani talenti e sviluppa l'innovazione al servizio della transizione energetica. Per saperne di più, seguici in live streaming su nextenergy.cariplofactory.it. Ti aspettiamo giovedì 19 settembre alle 14.30. Bentornati, bentornati al live streaming per il lancio di Next Energy 4. Come promesso siamo qui con Simona Sapio, responsabile della selezione di Terna. Io ricordo sempre a tutte le persone che ci stanno seguendo e in particolar modo ai neolaureati, visto che adesso parliamo di talenti, che possono rivolgere delle domande a Simona per quanto riguarda la Call for Talent utilizzando la pagina Facebook, quindi i commenti della pagina. Simona, prima domanda, a chi è indirizzata questa Call for Talent? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. La Call for Talent è una call riservata a giovani neolaureati under 28 che abbiano conseguito un titolo specialistico, una laurea in ingegneria, matematica, statistica, fisica ed economia da meno di 12 mesi e con una votazione eccellente, cerchiamo la votazione 110 su 110 o 100 su 100. Cerchiamo giovani motivati, preparati. I vincitori di questa Call saranno poi inseriti in un percorso sfidante di stage in azienda di sei mesi. Ecco, hai parlato di stage, sicuramente è uno degli aspetti che interessa di più i ragazzi che partecipano alla Call for Talent, però da oggi, quindi dal momento della candidatura al momento dello stage, cosa succede nel frattempo? Allora, da oggi parte proprio la possibilità per i ragazzi di candidarsi, di applicare la propria candidatura sul sito e devono allegare con la candidatura un curriculum vitae e una video presentazione. Ci sarà una prima fase che faremo di preselezione, andremo a verificare la corrispondenza dei requisiti richiesti e andremo anche un po' a valutare anche il percorso professionale e la motivazione. Da questa prima fase individueremo 100 ragazzi che saranno invitati in due giorni, due giornate, nel corso del mese di dicembre. Si terrà una giornata il 17 dicembre a Milano e il 19 dicembre a Roma. Chiamatele selection for talent, sono due giornate di selezione particolarmente innovativa. I ragazzi si misureranno con prove individuali di gruppo attraverso supporti digitali, avranno anche l'opportunità di conoscere dei manager di Terna, non svelo di più per non vanificare un po' l'effetto sorpresa, però da queste due giornate noi andremo a selezionare 10 vincitori che cominceranno con noi uno stage nel corso a partire dal 20 gennaio. Mi rubo qualche minuto a sottolineare che non si tratta di un semplice percorso di stage, ma di una vera e propria esperienza per i ragazzi di inserimento in progetti innovativi, confronto con i nostri manager, ci sarà un percorso di formazione dedicato a loro presso il nostro campus. Il nostro obiettivo è quello di dar loro dei contenuti e farli diventare dei giovani professionisti per poi, insomma, spendersi nel mondo del lavoro. Ecco, venite da un'esperienza triennale, quindi avete già uno storico interessante. Gli anni scorsi com'è andata? Cosa è successo con le scorse Call for Talent? Allora, devo dire che il bilancio è estremamente positivo. La maggior parte dei ragazzi che ha partecipato alle scorse edizioni oggi fa parte della nostra azienda, sono nostri colleghi. Non solo loro, perciò invito veramente ragazzi motivati ad aderire a questa iniziativa ad applicare la candidatura, perché anche gli altri ragazzi che hanno partecipato ai nostri Selection for Talent, essendo ottimi i profili, sono stati per noi un bacino di riferimento per i terzi elettivi futuri, quindi alcuni di loro li abbiamo inseriti in percorsi selettivi e oggi sono anche nostri colleghi. Per cui, ottimo. Ottimo. E allora, tra questi c'è anche Anna Satta. Anna Satta è una ragazza che l'anno scorso ha partecipato alla Call for Talent, è arrivata fino in fondo, ha fatto uno stage e oggi sta vivendo un'esperienza, mi pare di capire, molto interessante interna. Abbiamo una clip in cui possiamo conoscere la storia di Anna. Un anno fa stavo ultimando la mia tesi di laurea e proprio mentre mi recavo dal docente per le ultime revisioni ho visto nella bacheca universitaria il bando di Next Energy 3. Ho approfondito tramite i canali social di Terna e subito dopo la laurea ho inviato la mia candidatura preparando il video di presentazione che è stata già un'importante sfida. Ho cercato di trasmettere tutto il mio entusiasmo e la mia voglia di entrare a far parte del team e deve essere che ha funzionato perché pochi giorni dopo ho ricevuto la mail in cui mi si informava di essere passata alla preselezione e mi si invitava a partecipare alla Selection for Talent. La Selection for Talent è stata un'esperienza molto formativa e stimolante perché mi ha permesso di entrare a contatto con neolaureati provenienti da tutta Italia. Abbiamo lavorato in team e ci siamo messi in gioco. Alla fine della giornata abbiamo ricevuto tutti un feedback sui nostri punti di forza e sulle aree da migliorare. Era dicembre e qualche giorno dopo ho ricevuto il più bel gran regalo di Natale perché Terna mi ha chiamata e mi ha informato di essere tra i primi 10 vincitori della Call for Talent. A gennaio ho iniziato l'esperienza di stage e il bilancio è molto positivo perché sono entrata da subito nel vivo delle attività in una grande realtà aziendale volta all'innovazione. Sono cresciuta sia professionalmente che personalmente proprio perché anche da fuori sede ho dovuto affrontare tante piccole sfide. Questi mesi sono volati e al termine ho ricevuto l'ultima grande emozione. Ci speravo tanto, non era scontato, ma alla fine è arrivata l'assunzione e quindi ora faccio parte ufficialmente del gruppo Terna. Vorrei fare un invito a chi ci sta seguendo, candidatevi perché è un'esperienza formativa e utile, a prescindere dall'esito. Grazie per questa bellissima testimonianza. Speriamo che tra le persone che ci stanno seguendo ci sia anche la prossima o il prossimo Anna Satta. Bene, ovviamente cominciano ad arrivare le prime domande. La prima è molto concreta e quindi c'è qualcuno che vuole sapere, ma dopo lo stage c'è la possibilità di essere assunti interna? Allora, l'obiettivo dichiarato del Next Energy è quello, come dicevo prima, di dare a questi ragazzi la possibilità di diventare dei professionisti di contenuto. Se lo stage ha una valutazione positiva e il percorso quindi è positivo, la finalità è quella dell'inserimento. Per cui fino ad oggi siamo riusciti, effettivamente tutti i ragazzi poi in gran parte hanno finalizzato con un'assunzione in azienda. Quindi la risposta è sì, c'è la possibilità di essere assunti e ovviamente è una cosa che si deve guadagnare un po' sul campo. Ecco, c'è un'altra domanda che ci dice, nel bando si fa riferimento a un percorso di onboarding, quindi evidentemente stanno già cominciando a scaricare, a curiosare. Di che cosa si tratta? Allora, il percorso di onboarding è un percorso che nasce interna con l'obiettivo di cercare di accompagnare più velocemente l'inserimento all'interno dell'azienda. Quindi di creare subito un senso di appartenenza, uno spirito di squadra, anche rispetto diciamo a una velocizzazione dell'acquisizione di alcuni contenuti che poi sono funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa. È un percorso articolato, strutturato, della durata di 18 mesi. Si alternano momenti di formazione esperienziale con job shadow, quindi la possibilità di osservare altri colleghi, quindi altre strutture all'interno dell'azienda e anche attività di counseling. Quindi le persone che entrano interna attraverso questo percorso riescono un po' anche a creare subito un network che li può aiutare ad entrare nei processi e nel business. Bene, complimenti, complimenti e speriamo che anche quest'anno la Call for Talent raccolga tantissime candidature. Allora, se non ci sono altre domande, come mi pare, Simona io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro con tutti i curriculum che dovrai visionare. Chiudo diciamo questo blocco facendo un piccolo riassunto di quelle che sono un po' i criteri e gli elementi di selezione per la Call for Talent. Ricordiamo che la Call è dedicata a neolaureati con meno di 28 anni, laureati in Economia, Statistica, Fisica, Ingegneria e Matematica con una votazione di 100 su 100 o 110 su 110. Le candidature si aprono oggi e c'è tempo per partecipare fino al 25 di novembre. Dal 25 di novembre al 6 di dicembre ci sarà un momento di valutazione delle candidature e nei giorni dal 17 al 19 di dicembre il Selection for Talent. E poi lo stage vero e proprio che comincia il 20 gennaio per concludersi il 17 di luglio. Spero di aver detto tutto correttamente. Grazie ancora Simona. Noi torniamo pochissimo per parlare di Call for Ideas e Call for Grow, quindi idee e startup e soprattutto di Open Innovation. Vi lasciamo con una piccola clip che vi racconta cosa è successo con le startup dell'anno scorso. Grazie a tutti. Nel percorso di accelerazione che abbiamo fatto abbiamo potuto rimettere mano all'impianto dell'intero progetto e approfondire alcuni sviluppi specialmente nella parte di mercato andando a individuare quelli che sono sostanzialmente i soggetti principali a cui rivolgerci. Questo periodo di incubazione ci è servito soprattutto per perfezionare l'organizzazione aziendale, vedere e organizzare meglio il business, l'idea del business della nostra startup. La carta vincente secondo noi di questo percorso è stata l'accoppiamento virtuoso in sinergia tra High Pro Factory, l'acceleratore e la presenza di Terna. È un'iniziativa estremamente interessante di totale Open Innovation perché andiamo a cercare idee più innovative ma a un livello molto iniziale che stimolano sicuramente un approccio imprenditoriale all'innovazione. Diamo energia al talento nel senso che per Nest Energy il talento non è l'eccellenza ma come diciamo spesso qui in Carrible Factory il talento è un potenziale che deve essere sviluppato. Credo che sia stato proprio un contributo importante al modo in cui Terna pensa e fa e introduce innovazione al proprio interno. Bentornati, bentornati al lancio di Next Energy 4. Il tavolo si è riempito perché questo sicuramente è il blocco più numeroso, corposo. Parliamo di startup, parliamo di due call, la call for ideas e la call for grow. Ci aiuteranno a sviscerare un po' tutte le caratteristiche di questi percorsi di innovazione. Dario Polinelli, Open Innovation Specialist di Terna. Ciao Dario. Buongiorno. Marco Noseda, Head of Strategic Development and Innovation di Carrible Factory. Ciao Marco. Ciao. Ed Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Carrible Factory. Ciao Enrico. Ciao e buongiorno. Dario, partirei da te, visto che comunque Terna guida un po' tutto quello che è lo sviluppo tematico del progetto Next Energy. Ecco, parliamo di innovazione. Nell'ultimo anno l'azienda ha vissuto tanti cambiamenti. Ci vuoi raccontare un po' quali sono le principali novità? Certo. L'innovazione va veloce e dal punto di vista organizzativo la nostra struttura è in forte crescita e è focalizzata sempre più su progetti specifici. Una parola chiave che riassume il tutto è quella di digitalizzazione. Non a caso è anche la caratterizzazione del payoff del nuovo Next Energy. Abbiamo inaugurato ad aprile di quest'anno a Torino il nostro primo Innovation Hub e questa è una realtà che ci permette di collegarci con l'ecosistema di idee innovative in tematiche come l'IoT, l'Internet of Things e la ricerca di processi di monitoraggio evoluti che vogliamo applicare alle nostre infrastrutture elettriche. Abbiamo realizzato altri tre Innovation Hub che inaugureremo entro la fine dell'anno e abbiamo un progetto analogo anche per il prossimo anno al fine di coprire tutto il territorio nazionale con una fitta rete di Innovation Hub. Complimenti, è un piano di sviluppo super interessante che sicuramente in qualche modo riguarderà anche il progetto Next Energy. Ecco, di questi macro indirizzi di innovazione diciamo dell'azienda Terna che ricaduta hanno nelle aree di interesse della Call for Ideas? Certo, all'interno dei trend tecnologici emergenti abbiamo scelto di focalizzarci su tre principali che sono il full Internet of Things, l'Advanced Materials and Sustainability e l'Energy Tech. E questi sono poi declinati in una serie di paradigmi per cui, per fare qualche esempio, l'Innovation Hub Torino con il supporto delle factory stiamo ricercando nuove modalità di alimentazione di tutta questa sensoristica che andremo a installare, che stiamo installando sui nostri sostegni e sulle infrastrutture di rete. Per cui questo tema dell'Energy Harvesting e Energy Supply è per noi un tema di interesse che si traduce sia nella ricerca di recupero di energia dall'ambiente, ma anche nella ricerca di soluzioni e innovazioni in grado di sfruttare le potenzialità offerte dalla nostra rete. Come Advanced Materials siamo continuamente alla ricerca di nuovi materiali, sia come coating, sia come anche nuove forme di isolanti, fluidi o solidi, al fine di rendere la nostra rete sempre più sostenibile e sempre più performante e resiliente. Il tema dell'Energy Tech ci coinvolge per quanto riguarda le smart grid e ci siamo aperti anche all'Advanced Analytics al fine di rendere più flessibile la gestione della nostra rete. Queste sono parte delle idee che stiamo cercando e che vorremmo ottenere con la Call for Ideas di Next Energy 4, come del resto specificato anche nel bando. Esatto, grazie Dario. Ecco, avete capito che il raggio delle aree di interesse della Call for Ideas è veramente molto ampio e quindi l'invito è quello di andare ad approfondire tutti i dettagli all'interno del bando. Marco, se Dario ci ha fatto un po' così un'introduzione sulle tematiche della Call, tu aiutaci a mettere a fuoco un po' chi sono i protagonisti, cioè la Call for Ideas a chi è rivolta? Esatto. Allora, le tematiche sono ampie, il bacino di pesca è altrettanto ampio, nel senso che la Call for Ideas si rivolge a progetti d'impresa o a persone che vogliono organizzarsi in team per strutturare progetti d'impresa e a start-up costituite. Cerchiamo quindi, cerchiamo quindi progetti che siano compresi all'interno di un TRL, quindi Technology Readiness Level, compreso tra i 3 e 6. Quindi partiamo fondamentalmente da una prova di fattibilità sperimentale fino a una dimostrazione tecnologica in ambienti rilevanti. Questo è insomma. Ecco, mi metto nei panni di un potenziale candidato alla Call for Ideas. Io ho un progetto, partecipo, presento la mia candidatura, ma quali sono gli elementi su cui poi verrò selezionato da Terna, Cariplo Factory e Fondazione Cariplo. Esatto. Allora, innanzitutto bisogna ben circoscrivere qual è il comitato tecnico che partecipa alla valutazione. Partecipa alla valutazione ovviamente Terna, in qualità di promoter dell'iniziativa Next Energy, Cariplo Factory e, come dicevi, fondazione Cariplo. Quindi ci sono esperti di settore, esperti di supporto alle attività imprenditoriali ed esperti di dominio tecnologico. Normalmente il processo di valutazione si basa sempre, soprattutto per quanto riguarda le Ideas, su criteri che sono relativamente standard, che sicuramente alcuni progetti che hanno già affrontato magari dei percorsi di avvicinamento ad altre competition hanno avuto modo di validarsi. quindi sono soddisfacimento di un bisogno, ovviamente l'innovatività della soluzione, l'impatto tecnologico che questa soluzione può portare sui bisogni identificati da Terna, la fattibilità tecnico-commerciale che è assolutamente commissionata con la sostenibilità economica, la qualità e le competenze del team ovviamente sono necessarie perché parliamo di Ideas, parliamo di start-up neocostituite, quindi la componente di capitale umano è estremamente importante. Da ultimo, ma non meno importante, ovviamente la scalabilità e la replicabilità della stessa, diciamo, dell'iniziativa messa a punto. Mi sono dimenticato di specificare che all'interno del team è necessaria la presenza di un profilo under 35 anni, proprio per incentivare appunto la possibilità anche alle nuove leve, diciamo, dell'imprenditoria tecnologica del futuro italiano di poter emergere. Ok, ecco, io faccio sempre il giochino di mettermi dalla parte di un potenziale candidato e mi chiedo, va bene, ho tutti i criteri per partecipare alla Call for Ideas, oggi presento la mia candidatura, c'è tempo fino a novembre, ma poi cosa succede? Poi non succede più niente. No, allora, fondamentalmente l'iter è abbastanza tradizionale, nulla di particolarmente innovativo, se non nel percorso poi di accelerazione che mettiamo a terra. Allora, arriviamo appunto alla candidatura ultima della propria applicazione entro le 23 e 59 del 25 novembre del 2019. Passiamo poi a una seconda fase di valutazione delle candidature che è entro il 19 dicembre del 2019, dove verranno selezionati 20 progetti. Questi 20 progetti parteciperanno alla selezione finale. La selezione finale si basa sullo svolgimento di tre giornate di attività dove i team verranno messi ovviamente alla prova nella strutturazione diciamo di un pitch e nella capacità di poterlo esporre davanti ovviamente a una giuria che è formata appunto da esponenti di Cariplo Factory, Fondazione Cariplo e Terna, ovviamente, che andrà a selezionare i principali progetti che saranno per un totale di fino a un massimo di 10 progetti. Passeremo quindi poi alla quarta fase, che è la fase fondamentalmente operativa e qua sta l'innovatività diciamo del modello. Dal 17 febbraio fino al 30 aprile, quindi passiamo già ovviamente dal 2020, i progetti, a me piace sempre dirlo, subiranno proprio un programma o di incubazione o di accelerazione sulla base del livello di maturità dell'iniziativa che è andata a essere selezionata. Quindi sfrutteremo un network di incubatori e di acceleratori che abbiamo, permettimi il termine, consorziato anche se non è la parola corretta, ma dà l'idea del valore aggiunto della rete in Italia, che per competenza, track record e prossimità rispetto al progetto che avrà selezionato, erogueranno un programma di supporto all'imprenditorialità estremamente tailor made. Per poi ovviamente a valle di tutto il percorso atterreremo quindi alla fase finale, che ormai sarà la fase 5 dell'evento finale, che si terrà entro il 20 maggio del 2020. Quindi siamo già a metà del 2020, allora grazie Marco. Grazie a te. Dario, torno da te per chiederti. Marco ci ha fatto un po', come dire, lo sviluppo di tutto quello che succederà nei prossimi mesi. Ma, come abbiamo detto, NextEnergy ha alle spalle uno storico di tre anni. E allora, Terna, ha già avviato delle collaborazioni con delle start-up provenienti da NextEnergy? Certo. Stiamo collaborando e lavorando strettamente sia con start-up emersi dalle Call for Ideas che dalle Call for Growth. Cito ad esempio Ribestec, una realtà che ha partecipato alla prima edizione di NextEnergy come Ideas e che lo scorso anno si è ripresentata all'interno delle growth. È una realtà che ha saputo quindi, diciamo, capitalizzare al meglio l'offerta del programma e che ha sviluppato questa tecnologia altamente innovativa con delle grandi potenzialità. Attualmente collabora con il nostro Innovation Hub di Torino a stretto contatto per una serie di tematiche legate all'IoT for the grid. Quindi, certamente, l'esperienza passata e ci auguriamo che quella futura è quella di una grande collaborazione, di un lavoro a stretto contatto con queste realtà. Certo. Questo era un po' anche il concetto che raccontava prima Carlo, quindi che NextEnergy non è soltanto una serie di call ma è una vera e propria community all'interno della quale i talenti e le start-up possono crescere. Dario, ancora da te, hai citato la Call for Growth. Quali sono gli obiettivi di Terna quest'anno per quanto riguarda la Call for Growth? Io non farei una netta distinzione tra Call for Growth e Call for Ideas. Non a caso quest'anno il TRL, come dicevamo, delle Ideas è stato innalzato da 2.5 a un livello di 3.6, proprio per cercare di ridurre e di avvicinare le due call. La nostra idea è quella di favorire la collaborazione con l'Innovation Hub e con i sistemi di innovazione di Terna e quindi di conseguenza anche le tematiche sono un po' trasversali e sono diciamo comuni a entrambe le call. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a testare sul campo queste idee, le nuove tecnologie e i processi che emergeranno dalle due call. E beh, questo è sicuramente l'aspetto più interessante dell'innovazione, quando poi la si vede sul campo, la si vede avvenire. È un processo non facile, Enrico e qua arrivo a te, perché in qualche modo Cari Pro Factory segue anche questa fase di accompagnamento, di dialogo tra una startup e un grande player come Terna e quindi ti chiedo, chi sono le startup della Call for Growth? Sì, allora le startup della Call for Growth sono startup un po' più grandicelle, sono appunto i soggetti un po' più maturi. Sì, abbiamo capito dai colleghi che sulla Call for Idea sono focalizzati su un TRL da 3 a 6, sulla Call for Growth sono per la parte da 6 il livello minimo di TRL e arriva fino ad 8. Stiamo di fatto parlando di startup che abbiano già sviluppato un portafoglio clienti o testato positivamente almeno un prototipo, o meglio ancora, quando hanno un prodotto già sul mercato, un prodotto commercializzabile. Devono poi essere soggetti operanti in ambito UE, evidentemente devono applicare entro i tempi richiesti, quindi entro la mezzanotte del 25 novembre e devono avere un fit fra la loro soluzione e quelli che sono i temi della Call che abbiamo già discusso prima, quindi per sommi capi Internet of Things, Energy Tech, Advanced Material e digitalizzazione. Ok, grazie Enrico. Ecco, come si svolge la fase di selezione, di accompagnamento? Marco ci ha raccontato un po' quello che succede alle idee, tu raccontaci un po' quello che succede alle startup. Sì, senz'altro anche qui abbiamo un processo molto strutturato, la Call si chiude, come dicevo poc'anzi, alla mezzanotte del 25 novembre. Quello è il momento nel quale il nostro team, insieme al team di Terna, inizia una valutazione, un assessment di tutte le startup che hanno regolarmente applicato. Quindi i progetti che sono regolarmente pervenuti e che si ritengono ammissibili secondo le chiavi che ho discusso prima verranno valutati entro la data del 19 di dicembre da un comitato formato sia da soggetti Cari Pro Factory che da soggetti di Terna. I criteri sui quali si valuterà questa ammissibilità o meno riguardano la value proposition della startup rispetto alle aree di sviluppo strategico di Terna, l'innovatività della soluzione tecnologica, la qualità e le competenze del team, che è sempre un elemento molto importante, la scalabilità della soluzione proposta, il potenziale di mercato, ma anche la compatibilità della soluzione con i sistemi di Terna. Successivamente a questo primo screening del comitato di valutazione congiunto che selezionerà 10 startup, 10 startup, corretto, si avrà una valutazione finale al selection day che abbiamo chiamato selection for growth che è una giornata di valutazione di queste 10 startup che avverrà il 28 di gennaio del 2020. Qui ci sarà un comitato fornato unicamente da personale Terna che sceglierà fino a un massimo di 5 delle 10 che passeranno al percorso successivo che è la fase che chiamiamo di engage, che è un percorso di pre-collaborazione, mi viene quasi da definirlo, della durata di 4 mesi nella quale il fine, l'obiettivo è quello di realizzare un progetto pilota, di definire i parametri per la realizzazione di un progetto pilota fra Terna e la startup, quindi idealmente queste 5 startup poi chiuderanno un accordo di collaborazione con Terna simile a quelli che ci hanno raccontato prima, sono stati chiusi negli anni passati. Ecco Enrico, rimango su di te per un'ultima domanda, cioè in base alla tua esperienza, al netto del TRL che è un elemento un po' freddo, qual è il livello di maturità ideale per una startup per collaborare con un'azienda come Terna? Sì, allora fermo restando i parametri che per l'appunto sono quelli del TRL, quindi accettiamo startup dal 6 all'8, di fatto nella nostra esperienza devo dire quelle che alla fine riescono a portare maggior valore su una collaborazione di questo tipo sono quelle un po' più strutturate, sono normalmente, diciamo che se una startup ha già idealmente un prodotto commercializzabile o già sul mercato ha già superato tutta una serie di ostacoli e quindi è privilegiata rispetto ad altre, nella relazione con un grosso corporate come Terna, rispetto ad altre startup che magari si stanno muovendo dopo dei test in laboratorio, qualche test sul mercato ma senza avere ancora dei riscontri veri dal mercato. Quindi normalmente noi vediamo questo tipo di startup procedere diciamo più velocemente in una relazione con un grande corporate. Ok, Dario, visto che secondo me questo è un po' un tema interessante per chi ci sta seguendo, raccontaci un po' qual è l'aspetto che Terna guarda nel momento in cui valuta i progetti che si candidano, cioè qual è un elemento su cui c'è particolare attenzione? Diciamo che tra tutti i prerequisiti indicati certamente una posizione di primo rilievo è quella della motivazione delle persone, della crescita e soprattutto della qualità e competenza del team. Nelle precedenti edizioni di NextEnergy abbiamo riscontrato questi valori come fondamentali per lavorare insieme e per confrontarsi e quindi certamente sono dei valori aggiunti che ricercheremo anche nelle startup di questa nuova edizione. Ok, grazie Dario. Marco, c'è una domanda anche per te riguarda una startup della Call for Ideas che non è stata selezionata per un'edizione precedente e che adesso però in virtù dei progressi fatti vorrebbe ricandidarsi. È possibile? Certo, assolutamente sì. Nella speranza che possa aver fatto dei progressi, a quel punto potrebbe essere anche esserci l'opportunità di poter partecipare direttamente alla Call for Grow. Nel caso in cui invece, ahimè, non dovesse averli fatti in 365 giorni, allora a quel punto potrebbe avere di nuovo la possibilità di ricandidarsi alla Call for Ideas. Ok, grazie Marco. Allora, se non ci sono altre domande, noi ricordiamo un po' quelli che sono i principali criteri di partecipazione alla Call for Ideas e quindi partiamo da a chi è rivolta. È rivolta a team di innovatori e o startup costituite che soddisfino alcuni requisiti, siano basati su iniziative o tecnologie con un livello di technology readiness level compreso da 3 e 6 e abbiano almeno un componente del team di età inferiore ai 35 anni. La fase della raccolta delle candidature si apre oggi, si conclude il 25 di dicembre. La valutazione di queste candidature avverrà entro il 19 di dicembre, dal 21, dal 22 al 24 di gennaio ci sarà il Selection for Ideas in cui verranno selezionate le 10 migliori idee che accederanno al programma di incubazione e poi entro la fine di maggio 2020 avremo l'evento finale con la startup vincitrice della Call for Ideas di Next Energy 4. Invece per quanto riguarda la Call for Grow, diciamo un po' la scansione temporale è sempre la stessa, quindi c'è tempo per partecipare fino al 25 di novembre, entro il 19 di dicembre avverrà la selezione delle candidature e il Selection for Grow, quindi il momento di selezione delle startup insieme al team di Cariplo Factory e ai manager di Terna avverrà il 28 di gennaio a Roma. La fase di engage è prevista dal 17 di febbraio fino al 30 di giugno per poi diciamo avviare il progetto pilota o eventuali altre forme di collaborazione nel 2020. Ricordiamo che diciamo la Call for Grow è rivolta a startup in fase post seed, quindi startup più mature che abbiano un TRL compreso tra 6 e 8. Questi sono un po' i numeri e le caratteristiche del bando Next Energy 4. Next Energy però continua perché nello spirito un po' inclusivo e partecipativo del progetto e noi adesso cominciamo un piccolo giro d'Italia che ci porterà con un road show nelle principali città italiane. Sono già state individuate quattro tappe, Milano, Torino, Roma e Napoli. Naturalmente sul nostro sito web nextenergy.cariprofactory.it e tutti i nostri canali social potrete ricevere aggiornamenti e dettagli su questi appuntamenti. La diretta finisce qua. Io ringrazio Dario, Marco, Enrico e tutte le persone che ci hanno aiutato a raccontare la quarta edizione di Next Energy. Noi siamo arrivati alla fine ma in realtà è solo un inizio perché Next Energy comincia oggi e andrà avanti fino a tutto il 2020. Ciao e arrivederci. Ciao e arrivederci.